Maestro, ho letto il copione di Di Nostra Dea, io l'ho amato, è un capolavoro assoluto, bontempelli e un genio. Guardi, ho trovato delle stoffe che possono essere perfette per la protagonista. Guardi. Perché voi donne oggi volete essere liberate, indipendenti, determinate, desiderose di vivere in maniera più dinamica rispetto alle vostre nonne o alle vostre mamme. Io sono la mamma. Oh, tutto il rispetto, signore. Maestro, guardi che meraviglia. Questo blu potrebbe essere perfetto per la scena del bacio tra Dea e Orsa. Che ne pensa? Aspetta. Vieni. Eccolo. Ti parlo che mi fai bene. Dami un bacio, mica mia. Ti parlo che mi fai bene.